cari fan di Inglorious Glow Buster abbiamo un gradito ritorno ai nostri microfoni alle nostre webcam eh abbiamo Alessio Argiolas che è uno dei maggiori critici del sistema fiscale italiano e per motivi che vi faremo vedere questa in questa puntata sono estremamente cogenti. Allora questa puntata la vogliamo dedicare alle imposte di successione perché è stato un tema caldo insomma della primavera della tarda primavera inizio inizio estate duemilaventuno adesso non è più un tema caldo visto che sono i cinque stelle e eh i loro litigi a tenere in banco ma molta gente non ha idea di che cosa siano le tasse di successione tutto il processo che cosa comporta le difficoltà eh insomma poi di solito insomma quando ci si trova impelagato eh il cittadino medio capisce di cosa stiamo parlando ma noi vogliamo regalare un'esperienza prima così di doverla vivere in prima persona. Allora caro Alessio ti lasciamo il microfono e tu ci illustri un caso non particolarmente ehm eclatante è già un caso che può succedere a chiunque chiunque di voi eh magari in termini leggermente diversi per ammontare leggermente diversi ma eh tutta la procedura delle tasse di successione si può trafondare facilmente in un incubo ve lo posso dire anche io che purtroppo ho passato queste esperienze per entrambi i miei genitori vi faccio semplicemente notare che per riottenere indietro un fondo comune in cui aveva investito mio padre la BNL 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 ha impiegato otto anni otto anni di cui capito eh durante i quali ho dovuto insistere andare a parlare a dire a interloquire a espicare a minacciare minacciare a eh eh insistere senza ottenere risultati perché dall'altra parte c'è un muro di gomma il cittadino ormai è un servo della gleba sia per le banche sia per il fisco non ne parliamo nemmeno ma comunque chiuso questo inciso personale Alessio dacci illuminaci tu su quello che potrebbe attendere eh chi si trova alle prese con il fisco per la successione di un genitore. Allora questo è un caso pratico di un accertamento che è stato fatto per una successione eh partiamo ovviamente da semplicemente ricordare che per l'imposta di successione eh non va non vale il criterio normale dell'autoliquidazione. viene presentata una dichiarazione dopodiché l'ufficio ha eh sessanta giorni per eh dire e liquidare l'imposta dire quanto muovere eventuale obiezione e liquidare l'imposta. ecco abbiamo messo non so se si vede sullo schermo eh in condivisione l'avviso di accertamento e liquidazione eh per la per la successione per la successione di questo caso allora dici un po' tu vediamo qui. allora prospetto riepilogativo dell'asse ereditario. Ok? Ok. Tenete presente che le imposte non vengono liquidate come imposte di successione. Quello che è un discorso spesso messo in buone ma la fede non so eh molti non citano il fatto che insieme all'imposta successoria che magari ha una franchigia in alcuni casi di un milione di euro in altri di centomila in altri di zero. ci sono imposte che non hanno alcun tipo di franchigia e queste sono ad esempio l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale. Vedete qui non è stato dichiarato eh per una situazione molto particolare, molto incresciosa. Tenete presente che questo avviso di accertamento è stato liquidato a un minorenne sia alla data dell'apertura della successione quando gli è morto ovviamente il il genitore eh sia eh nei dodici mesi successivi perché la dichiarazione di successione va eh consegnata, va inoltratta all'agenzia nel dodicesimo mese, entro il dodicesimo mese dal deccesso. quindi l'importo dichiarato come vedete zero però attenzione loro sapendo che ovviamente avevano la franchigia per quanto riguarda l'imposta di successione hanno liquidato gli unici tributi al loro debito. ciò vuol dire l'imposta ipotecaria e catastale liquidata sui valori catastali perché qui abbiamo un criterio eh che è stato in questo caso non applicato perché l'imposta di successione eh si chiama TUS. testo unico dell'imposta di successione e donazione. Ricordiamoci il il testo unico è lo stesso. Abbiamo un TUS dove eh vengono trattate queste queste imposte e queste omissioni in maniera in teoria diversificata. Ci vuol dire se uno come in questo caso eh versa i tributi a debito eh e omette il dichiarativo la sanzione dovrebbe essere da duecentocinquanta mille euro. nel caso in cui invece non paghi i tributi a debito la sanzione è dal cento al duecento per cento delle imposte evalse. Ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi signori non è che non l'hanno versata non hanno fatto il dichiarativo perché sono masochisti. ci sono situazioni contingenti. Già un minore dovrebbe essere un esimente in uno stato normale non in Italia. Cosa è successo? Era una situazione molto delicata dove tra l'altro avevano degli interessi particolarmente sensibili per cui eh tra eh perché c'era un minore N, tribunale, menate varie eh non hanno depositato eh nei termini la dichiarazione successione. Cosa succede? Succede allora che invece di basare l'accertamento sul valore catastale l'agenzia delle entrate lo applica su per la stragrande maggioranza 14 su 15 immobili sul valore venale in comune commercio. quindi se adesso Fabio vi mette la slide numero uno vi facciamo vedere un caso di come di come viene considerato. Ci vuol dire l'agenzia ovviamente con le norme e l'immensa banca dati tutto quello che gli serve per liquidare le imposte. Quindi prende a riferimento osservatorio del mercato immobiliare nonché gli atti applicati in analoga zone comune, zona particolare, per cui sa tutto di quali sono i minimi e i massimi dei valori. In questo caso il valore venale in comune commercio come vedete nonostante siano stati cumulati ben 15 immobili arriva poco sopra il milione di euro. Quindi stiamo parlando e questo discorso anche Fabio l'ha fatto in un video insieme ad Alberto successe una cosa abbastanza incresciosa perché i valori vediamo che sono molto più alti ma comunque parliamo di valori smisurati rispetto al mercato perché un milione 014 mila per arrivare 15 immobili cumulati abbiamo veramente dei valori ridicoli. Cosa succede però? Succede che noi... Fabio se mi mandi le slide me le giri... Ho un problema perché la connessione... Siamo presi la connessione un attimo di Fabio. Allora vado avanti lo stesso. Abbiamo quindi un accertamento come vediamo che per cumulare un milione di euro quindi la franchigia in questo caso era appunto un milione di euro per cumulare un milione di euro ha bisogno di ben 15 immobili quindi questo è uno spunto di riflessione per coloro che giudicano immorale il fatto che gli accertamenti vengono basati sul valore catastale come potete ben vedere l'agenzia può tranquillamente applicare in un caso o nell'altro o il valore catastale e il valore venale in comune commercio è un caso ovviamente derivato da un'omissione però la dice lunga su quella che è la discrezionalità lo spunto di riflessione che è partito da noi tre perché è quello il punto che ha guidato Alberto, Fabio e me è questo come è possibile che vengano omessi e occultati come base imponibile degli immobili che per definizione non si spostano sono lì di cui l'agenzia sa tutto abbiamo un testo unico in questa successione che è il decreto 346 del 90 cioè qui compliance 0 è stato applicato quello che in questo caso l'ufficio ha voluto fare perché il suo lavoro è portare denari per le esigenze senza fondo dello Stato italiano questo è quello che è successo in maniera abbastanza triste l'altra cosa che vedremo è che tutti i discorsi che vengono fatti parlano di imposta di successione l'imposta di successione è solo uno dei balzelli che bisogna pagare quando si apre una successione perché appunto se ci sono immobili devono essere pagate immediatamente sia l'imposta ipotecaria che quella catastale quindi l'imposta ipotecaria e catastale sono il 2 e l'1% il 3% sembra poco ma non ha franchigia e il 3% in questo caso su un valore di un milione di euro capiamoci perché abbiamo la possibilità di ripartire il patrimonio ereditario in base ai coeredi però sono obbligati a pagare questi tributi sia i chiamati tutti chiamati all'eredità quindi ci sono sia gli eredi quindi ai sensi del 588 ricordiamoceli sia i legatari quindi gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi quindi anche nei debiti poi si accettano come beneficio di inventario fino al valore che ereditano invece i legatari subentrano per un ben preciso diritto di tipo patrimoniale diciamo così però riguarda tutti riguarda tutti noi quindi non stiamo parlando di soggetti che privilegiati perché alcuni vanno a dire beh sì ma voi avete in mente il target di cliente particolarmente danaroso no perché adesso come recuperiamo la connessione con Fabio vedrete di che cifra andiamo a parlare parliamo veramente di una barca di soldi perché per fare 15 immobili molti soggetti dicono eh ma ti vendi qualcosa no il patrimonio è liquido quindi se un soggetto deve vendere qualcosa urgentemente per pagarci le imposte sicuramente non lo può vendere a valori a valore venale in comune commercio lo venderà svendendolo quindi stiamo proprio parlando di una situazione abbastanza abbastanza precaria quindi allora vediamo un po' vai avanti Alessio tanto ti impiega un po' a Fabio ricollegarsi sì allora in questo caso parliamo proprio di numeri pratici in questo caso il soggetto ha dovuto per capirci pagare per 15 immobili allora l'imposta totale era il 2% era 20.294,92 euro lui aveva già pagato quindi gli hanno accertato una maggiore imposta di 10.363 euro lui ha dovuto pagare non solo questo importo ma ha dovuto pagare anche ovviamente quella che l'imposta l'imposta catastale che ammonta 10.147,46 però per comodità su quella base imponibile di un milione di euro calcolate il 3% quindi stiamo parlando mediamente di 30.000 rotti euro perché era più di un milione di euro da pagare solo di imposte ipotecarie catastali di 15 immobili cumulati parliamo questo l'aspetto fondamentale che deve essere compreso che il valore catastale che viene utilizzato generalmente col criterio del prezzo valore per tutti coloro che devono vendere un immobile possono dichiarare un corrispettivo anche inferiore però se scelgono di pagare le imposte sul valore catastale allora l'ufficio ha ovviamente nessun potere accertativo o perlomeno in maniera molto limitata in questo caso hanno pagato sui valori catastali però l'ufficio l'ha liquidato sul valore venale in comune commercio la dicitura ve la leggo il valore venale è stato determinato dall'ufficio sulla base dei valori venali in comune commercio per beni simili alla data di apertura della successione viste le quotazioni del mercato immobiliare e dei valori che si riscontrano in numerose compravendite delle varie agenzie immobiliari che danno per i mobili simili un valore che varia da 850 a 1200 euro quindi per il suddetto fabbricato hanno applicato il minimo e di questo gliene diamo atto e siamo arrivati appunto a 30.000 euro solo di imposte ipotecari imposte catastali immaginarsi se bisogna se un soggetto diventa passivo per l'imposta anche in successione ad esempio per quanto riguarda i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle la franchigia solo 100.000 euro e l'imposta di successione è il 6% stiamo attenti che il 6% anche per cognati generi nuore suoceri senza applicazione di alcuna franchigia quindi voi immaginate una situazione di questo tipo con una parentela un'affinità diciamo così affinità in linea collaterale fino al terzo grado in cui oltre i 30.000 euro su 1.000.014.000 euro devono pagarci anche il 6% quindi 6 più 3 dalle nostre parti fa il 9 stiamo attenti poi che la norma appunto perché è datata perché è una legge del 90 a soggetta perché in questo caso dovrebbe essere con il diritto di famiglia e ci sono un po' di problemi l'8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti tra cui i conviventi non uniti civilmente ma purtroppo è capitato proprio da poco che un un amico omosessuale non era unito civilmente col suo compagno ed è scegliuto il compagno un bagno di sangue oltre a tutti i problemi in merito perché cumulate l'8% al 3% senza alcuna franchigia fatevi il conto di cosa possono essere l'11% su veramente un appartamento di 300.000 euro fatevi conto questo è un aspetto abbiamo voluto fare questa questa puntata proprio per far comprendere che noi non siamo né pro né contro a priori cioè noi non facciamo mai niente ad personam ma solo ad rem se si parla di imposte successorie bisogna avere la lucidità o perlomeno la correttezza di parlare di tutti i balselli correlati a un evento luttuoso quando si arriva a pagare imposte di questo tipo allora secondo me voglia dire dimezziamo la franchigia a 500.000 euro e innalziamo le aliquote uniamo tutti gli atti di donazione di disposizioni fatti in vita dal decuius per rientrare in questi 500.000 euro perché non è così noi abbiamo importi di sanzioni adesso abbiamo Fabio è tornato sono tornato tra voi è tornato tra noi se ci metti la slide 6 Fabio se ci vediamo un po' io ci provo però potrei non la leggo perché ci possiamo fare leggila leggila che secondo me è meglio ecco allora abbiamo le sanzioni che sono state irrogate per questo tipo di di omissione quindi unite ai famosi importi che vi ho detto maggiorate la sanzione amministrativa pecuniaria di 18.654 euro il totale somme dovute attenzione al netto degli oltre 20.000 euro che erano già stati dati ammonta a 38.295,81 quindi cumulando i versamenti che erano stati fatti nei termini spontaneamente delle imposte ipotecarie e catastali sul valore catastale degli immobili si arriva a 60.000 euro perché un'altra particolarità è l'ufficio ha 5 anni per notificare gli accertamenti in caso di omissione cosa succede che dobbiamo maggiorare queste sanzioni del 4,5% di interessi per ogni semestre compiuto quindi facciamo 9% annuo in questo caso hanno pagato in più di interessi il 30% proprio detto brutalmente ed è una cifra veramente spropositata perché molti dicono ma paghi l'interesse no in questo caso per il TUS si paga un 4,5% di interessi per ogni semestre compiuto quindi erano passati tre anni una bella mazzata praticamente ebbè Fabio fai le 5 anni te lo notificano a questo anno che poi è interesse composto non è interesse semplice non è che si aggiunge diciamo il 9% del dell'ammontare iniziale no ogni anno si calcola l'interesse maggior diciamo così con la maggiorazione degli interesse 9% anno per 5 anni la tabellina del 5 la conosciamo tutte ti paghi la metà quasi in più solo di interessi questo era un aspetto fondamentale dovevamo fare e l'abbiamo fatto perché l'avevamo in ballo da un po' di tempo questa questa puntata proprio perché è fondamentale che non si non ci si divida per il dividet impera cioè devono deve essere ben chiaro che non è un unico tributo perché qui ci si concentra sull'imposta di successione e poi gli altri tributi vengono omessi no quando muore qualcuno l'evento luttuoso in molti casi genera veramente della disperazione non solo per la morte per la situazione in cui molte aziende molti imprenditori si trovano nell'illiquidità e con l'ultima pandemia la crisi economica immaginiamoci cosa succederà dovranno molti soggetti dovranno svendere perché possono la massima rateazione sono 12 trimestrali se l'importo supera i 20.000 euro quindi non è che tu puoi andare a farti le rate come pensi quindi è ma c'è anche un'altra cosa da dire Alessio perché uno ti potrebbe rispondere si dice vabbè tu hai ereditato immobili terreni per un milione devi pagare 100.000 o comunque ti rimangono 900.000 in tasca per così dire quindi se proprio non hai soldi tu ti vendi qualche uno di questi immobili e con ricavato paghi il dovuto allo Stato alla fine rimani diciamo così un po' ricco però rimani diciamo così ricco e quindi non ti starà lagnare il problema è che molti di questi immobili se ce l'hai al centro di Roma al centro di Milano in aree pregiate questo ragionamento più o meno sta in piedi ma quando ti lasciano immobili vecchi nei paesini spopolati del sud nelle zone non particolarmente pregiate delle città ha voglia a vendersi gli appartamenti o i terreni agricoli oggi questa roba non vale quindi l'idea che ci sia un mercato immobiliare florido liquido dove tu puoi estrarre valore dall'asse ereditario completamente sballato lo vedo essendo originario di un paese nel sud che diciamo così si sta spopolando ci sono solo annunci vendesi e fittasi e rimangono lì anno dopo anno perché nessuno compra e nessuno affitta ma nel valore venale in comune commercio di 15 immobili per andare a pagare 60.000 euro di roba ne devi vendere 4 c'è un altro lavoro oltre il fatto che un patrimonio immobiliare in molti casi ereditato è diventato dirutto perché se un'unità collabente non serve a nulla ovvio che alla fine devi pagarti il geometra per fare la variazione devi poi dopo se metti adesso il 110 se uno lo vuole poi cercare di utilizzare per recuperare la volumetria e fare un'agevolazione però era un'unità collabente ti ci voglio vedere risolverte il problema con l'ufficio tecnico comunale quindi uno per pagare 60.000 euro di roba tra imposte e sanzioni se ne ha dovuto cumulare attenzione detto da loro 15 per arrivare un milione di euro ha voglia vendertelo si ha voglia esatto ma poi non parli i costi di transazione devi pagare l'agenzia immobiliare che te lo va a vendere se poco poco lo devi rimettere in condizioni decenti perché magari è un appartamento dove non sono stati fatti lavori di manutenzione da anni il tetto è un po' malandato gli infissi hanno 40 anni di vita cioè per metterlo in condizioni di vivibilità da poterlo cioè da poterci far entrare qualche uno qualche potenziale compratore che non scappa dopo che hai aperto la porta d'ingresso non è che te la cavi con 200 euro 300 euro di ritenteggiatura della porta quindi il mondo reale non è il mondo di science po' a Parigi non è il mondo di chi non ha mai lavorato in vita sua e fa il gradasso sui social aizzando la gente non è il mondo di qualche studentello col cervello candeggiato che spara fregnacce sui ricchi e sulle disuguaglianze come un cagnolino ammaestrato non so tu Alberto come diciamo così se hai anche le due esperienze di vita vissuta più o meno analoghe no io ho venduto tutti gli appartamenti che eravamo perché altrimenti mia madre andava con le preoccupazioni che venivano dagli appartamenti mia madre che era debole di carattere sarebbe sempre stata in angoscia con le problematiche degli appartamenti sì sì quello abbiamo parlato nella puntata con il presidente di confedilizia spaziali testa cioè non è che questi che oggi la proprietà immobiliare ti dà redditi principeschi con quello che se ti va bene ti pagano d'affitto perché spesso non ti pagano finisci sì e no per coprire la manutenzione e le tasse varie che vengono imposte quindi poi quando alla fine diciamo dai in eredità o insomma qualcuno riceve in eredità questi appartamenti si trova una marea di incombenze di fastidi di litigi spesso di cause contro gli inquilini morosi oppure quelli che hanno diciamo che hanno occupato l'appartamento non ti pagano e non se ne vogliono andare quindi è tutto un complesso di cose oggi praticamente quando dicono ah ma sai negli Stati Uniti le tasse sulla proprietà immobiliare sono altissime non so fanno sempre il paragone non sul sul diciamo sul totale delle tasse delle imposte vanno a prendere una a una e fanno questi confronti no ma in America se l'inquilino non ti paga dopo due settimane si ritrova i mobili in strada allora io pago le tasse perché c'è un sistema giudiziario efficiente che protegge la proprietà privata in Italia il sistema giudiziario protegge quello che occupa abusivamente la casa perché ci vogliono dieci anni per avere una sentenza definitiva poi va a chiedere all'ufficiale giudiziario di buttarlo fuori il giorno che arriva c'è sempre la nonna malata che non può essere messa in strada quindi è tutta una buffonata questo sistema giudiziario che però noi dobbiamo pagare con le tasse questo è stata la diciamo questo è il messaggio che vogliamo reiterare e abbiamo colto l'occasione della tassa di successione per spiegare come funziona davvero il mondo reale fuori dai giornali e dalle chiacchiere spara politiche cari amici siamo arrivati alla fine della puntata noi ringraziamo Alessio che è sempre di una lucidità esemplare ci porta questi esempi come dire concreti e spero che siamo riusciti a farvi capire dove si vuole andare a parare quando si parla di aumentare le tasse di successione per il momento vi ringraziamo dell'attenzione vi invitiamo come sempre a mettere un like ormai vi siete abbonati in tanti al nostro canale abbiamo raggiunto i 9000 abbonamenti quindi insomma vorremmo raggiungere i 10.000 entro la fine dell'anno ma immagino che siamo sulla buona strada un caro saluto a tutti e grazie ancora ad Alessio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti